Ovvio nasce qui a Roverido in Piano nel 94 da un progetto nato preso un paio di anni prima e dopo l'apertura nel centro commerciale a Torre di Quartesolo Vicenza. Seguiranno poi anche l'apertura a Roma e a Bergamo. Nel 94 all'epoca in zona non c'erano altri punti vendita di questo tipo. Aveva come punto di ispirazione un po' quello che era il progetto commerciale di Ikea, quindi tanta autonomia al cliente, tanta precisione all'interno del punto vendita come esposizione, chiarezza. Nel tempo si è sviluppato molto il nostro punto vendita, nel senso che abbiamo attirato clientela non essendoci concorrenza all'epoca quasi di nessun tipo nel nostro territorio. Riuscivamo ad attirare persone da Trieste, da Gorizia, da Udine e quindi tutto il Friuli Venezia Giulia era assolutamente attirato da quello che noi proponavamo. Riuscivamo ad avere clienti anche dalla vicina Slovenia, addirittura a volte anche dall'Austria e per non parlare di tutto il Veneto, quindi Venezia, Treviso, Padova soprattutto, anche Belluno. Abbiamo continuato a mantenere questo rapporto con i clienti del Triveneto anche nel corso del tempo, ma ovviamente con l'apertura anche di altre realtà vicine a noi o comunque sul territorio è sempre andato un po' calando. Il nostro fatturato è sempre stato nei primi 9-10 anni sempre in crescita, non abbiamo mai avuto variazioni al ribasso. All'inizio c'erano gruppi di persone che studiavano quelle che erano le tendenze, sia per quel che riguarda l'arredamento che per quel che riguarda l'oggettistica, sia per quel che riguarda forme, colori, materiali. Eravamo sempre assolutamente non in tendenza, facevamo la tendenza perché venivano tutte nozioni prese dalle fiere. Insomma c'era una grossissima attenzione a tutto quello che era creare aspettativa nel cliente e diciamo coccolarlo, farlo sentire sempre al centro dell'attenzione anche da questo punto di vista. La realtà ha cominciato a cambiare da 5-6 anni in questa parte, soprattutto per il nostro punto vendita. Abbiamo cominciato ad avere problemi con i fornitori, sono cambiati, i fornitori sono calati a fronte di problemi di pagamento che hanno avuto questi nei confronti dell'azienda. Da lì chiaramente è cambiata anche l'immagine dell'azienda, la stessa azienda non ha più investito sull'immagine propria. La situazione per quanto riguarda il nostro punto vendita ha cominciato a peggiorare in modo drastico da due anni e mezzo questa parte. Nel momento in cui hanno attivato gli ammortizzatori sociali nella misura del contratto di solidarietà, per cui abbiamo cominciato a lavorare il 50% delle ore. Contemporaneamente purtroppo da parte dell'azienda c'è stato un ritardo del pagamento degli stipendi e una mancata comunicazione fin da subito sulla cosa. Da due anni e mezzo che siamo praticamente indietro con lo stipendio almeno di una mensilità non pagata da parte dell'azienda, con una scarsa comunicazione da parte dell'azienda nei nostri confronti. La situazione è peggiorata ulteriormente in questi due anni perché si è chiuso il contratto di solidarietà, non siamo rientrati al lavoro a pieno regime, anzi si è aperto un nuovo canale, diciamo che è quello della cassa integrazione. Parallelamente si è aperta anche la mobilità volontaria a cui hanno aderito la metà del personale, praticamente la metà del personale ha deciso di andare in mobilità volontaria. Dopo la riduzione del personale pari a metà dipendenti, tutti pensavano, prima credo l'azienda, che la situazione migliorasse, con comunque ulteriore disagio per chi era rimasto, chiaramente perché il lavoro da fare era superiore a quello che c'era in precedenza. Invece le cose sono di lì drasticamente peggiorate, perché è partita una nuova promozione che in particolare per il nostro negozio parlava di chiusura. Nessuno chiaramente ci aveva avvisato, dalla sede non c'è stato nessun tipo di comunicazione nei nostri confronti, fino a che finalmente qualcuno dell'azienda si è fatto vivo ammettendo che c'era questa idea di chiusura. Ponendo anche le date di tutto questo, erano i primi di luglio, a noi c'è stato detto che entro la fine del mese il negozio chiudeva e doveva assolutamente sbaraccare il sito per motivazioni che per noi sono un po' dubbie, comunque riguardano l'azienda. La comunicazione è stata sempre poca, non c'è stato modo nemmeno di trattare per quanto riguarda una retribuzione almeno di due messilità in un tempo ristretto e quindi la decisione nostra è stata quella di presidiare all'esterno del negozio, perché ci veniva comunque chiesto di lavorare l'ultimo mese della svendita non essendo retribuiti, al che non abbiamo assolutamente accettato e ora siamo in questa situazione qui. Comunque aspettando che si risolva un po', si sbrighi un po' la matassa e che arrivino nuove comunicazioni da parte dell'azienda.